Si intitola Leggi, viaggia, colora l'Italia. È un ebook realizzato attraverso un progetto di crowdfunding da una quarantina di scrittori e illustratori provenienti da ogni regione d'Italia. Per il Veneto c'è lei, Erika Saetti di Cartigliano. L'obiettivo è quello di unire l'Italia con storie e disegni in un viaggio di fantasia attraverso tutte le regioni con le loro diversità e bellezze. Questo ebook nasce da un progetto, dopo aver visto Conte colorare la nostra Italia di colori molto tristi che determinavano chiusure e molte difficoltà e limitazioni. Loro invece hanno creato immagini da colorare e storie raccontate in chiave fantastica che i nostri bambini, i nostri ragazzi potranno leggere in formato digitale oppure stampare se vorranno e colorare a loro piacimento. Un'interazione quindi con i più piccoli grazie anche al patrocinio della pubblica amministrazione di Cartigliano. A questo seguirà anche un contest, infatti verranno premiati i primi tre bambini di ogni classe che coloreranno o racconteranno a loro piacimento una loro storia. E quindi ci sono anche dei premi? Sì, il premio sarà appunto questo libro che verrà stampato in primavera e che noi del Comune di Cartigliano abbiamo creduto come progetto e abbiamo patrocinato. Verrà consegnato a questi tre vincitori di ogni classe e così potranno avere questa coppia in formato cartaceo.